Capplast è un'azienda italiana che produce contenitori di materiale plastico. Nata con la produzione di film plastici per il settore tessile, che tutt'oggi è una delle nostre tre divisioni, oggi produce anche grandi contenitori e pallets in polietileno e flaconi per il settore alimentare, farmaceutico e della cosmesi, con clienti in tutto il mondo. La collaborazione con Snyder Electric è di lunghissima data. Negli ultimi 10-15 anni abbiamo fatto degli investimenti mirati a un ammodernamento della nostra infrastruttura elettrica. Siamo partiti con qualche retrofit e con una nuova cabina MT-BT Smart nel nostro sito di Campi Bisenzio, per ospitare una nuova grande pressa di iniezione. L'obbligo di redigere periodicamente audit energetici ci ha convinto ad adottare la soluzione di monitoraggio Power Monitoring Expert. Con questa soluzione la lettura dei consumi energetici avviene in maniera automatica, grazie ai sensori in campo. E la piattaforma è in grado di dialogare direttamente con il nostro gestionale, permettendoci di calcolare anche il dispendio di energia per ogni singola gamma di prodotto. Il monitoraggio costante di tutti i nostri vettori energetici ci ha permesso di identificare e intervenire su sprechi di cui non eravamo a conoscenza, abbattendo così del 7% i nostri consumi, che per noi significa tanta energia risparmiata. Abbiamo sottoscritto inoltre il servizio Asset Advisor, che ci garantisce un controllo costante delle nostre infrastrutture critiche tramite un approccio predittivo e veniamo avvisati in caso di problemi prima che si trasformi in incidenti critici. Tramite Power Advisor invece analizziamo la rete elettrica per individuare condizioni problematiche di qualità dell'energia, che potrebbero causare problemi alle apparecchiature e alla loro affidabilità. Grazie a tutti!